BATP, Biological Active Tissue Paper, è un prodotto brevettato a livello internazionale per realizzare una carta igienica bioattiva che combina l'azione sinergica di microrganismi buoni e sicuri per ripulire gli scarichi. Quando la carta igienica bioattiva entra in contatto con l'effluente, i microrganismi trovano le condizioni ottimali per risvegliarsi, quindi si attivano e iniziano a produrre enzimi specifici che degradano le incrostazioni e le sostanze organiche presenti nelle tubature, trasformandoli in acqua e in idride carbonica. BATP ripulisce gli scarichi, tubazioni e fosse biologiche, mantenendoli liberi da intasamenti e da cattivi odori. La riproduzione dei microrganismi moltiplica l'efficacia dell'azione pulente. Essi vivono sino all'esaurimento della sostanza organica. Quando il nutrimento si esaurisce il loro ciclo vitale si conclude. Con BATP si risparmia tempo e denaro. BATP è una soluzione ideale per neutralizzare i cattivi odori, ridurre il rischio di intasi, sanificare bagno e toilette contrastando la crescita di agenti patogeni, mantenere pulite tubature e scarichi, ridurre le operazioni di spurgo. BATP è un prodotto certificato sicuro e amico dell'ambiente. Promuove il naturale processo di depurazione delle acque reflue anche a valle degli scarichi. BATP rivoluziona il concetto di tation, da commodity a specialty e trasforma un gesto quotidiano in uno stile di vita ecosostenibile.